Controlli intensificati a Camerota in vista del weekend delle festività di Pasqua, gli agenti del comando di polizia municipale guidati dal sovrintendente Giovanni Cammarano durante un servizio di pattugliamento del territorio hanno intercettato e identificato cinque persone a bordo di un'automobile a Camerota a capoluogo. Si tratta di cittadini residenti nei comuni limitrofi. Considerate le restrizioni dettate dalla zona rossa per il contenimento del contagio del coronavirus, i caschi bianchi, dopo gli accertamenti del caso, hanno scortato l'automobile e i cinque occupanti oltre ai confini territoriali del comune di Camerota. Il pattugliamento delle strade non sarà l'unica forma di controllo in vista del prossimo fine settimana, sottolinea il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Insieme ai gruppi di protezione civile e alla polizia municipale è stato predisposto un piano ulteriore di verifica e accertamento delle presenze in entrata sul nostro territorio.